Sera signori e signore. E ben ritrovati all'edizione serale del nostro TG. In primo piano le notizie riguardanti l'Unione Europea. Anche oggi milioni di studenti hanno manifestato per il diritto all'istruzione pubblica, scendendo in piazza in più di 100 città europee. Passiamo all'economia. Gli stipendi dei tedeschi duplicano, mentre quelli di altri come l'Italia, la Spagna e la Romania dimezzano. Negate le cure ad uno studente spagnolo in viaggio in Francia, in quanto disoccupato e quindi non possedente della tessera sanitaria europea. Il ragazzo è dovuto ritornare in patria per poter avere accesso alle cure necessarie. Grazie. 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 Grazie a tutti. Vorrei che i sogni potessero diventare realtà. Vorrei un posto su misura per me. Vorrei un'Europa così. Vorrei un posto su misura per me. Vorrei un posto su misura per me.